Quindi se vuoi registra, grazie. Allora buonasera a tutti, a tutti e a tutte. Io sono Martina Viperno dell'Università Cattolica di Lovania. Welcome everyone to those who don't speak Italian as a first language. I'm Martina Viperno from K11 in Belgium. Oggi parleremo in italiano e l'incontro di oggi è dedicato ad una realtà di ricerca, di educazione e di crescita che si trova presso l'Università Sapienza di Roma, l'università in cui ho studiato e mi sono laureata, una realtà di cui io stessa faccio parte anche dall'esterno, ma che da qualche anno, precisamente dal 2015, si è imposta come un centro della ricerca ottocentistica in Italia, specificamente leopardiana. Stiamo parlando del laboratorio Leopardi che si trova alla Sapienza Università di Roma. Oggi vogliamo provare a proporre un formato un po' diverso, sia rispetto alle lectures normali di ottocentismi, sia più in generale. Abbiamo infatti chiesto ai relatori di preparare una specie di relazione di gruppo e di presentare il laboratorio come laboratorio e non solo come somma degli individui che ci lavorano e che vi fanno ricerca. Il laboratorio è infatti una creatura essenzialmente collettiva, un vero laboratorio basato sull'ascolto e sulla collaborazione in cui i diversi, diciamo così, gradi, le diverse età accademiche si mescolano e si aiutano felicemente. Infatti abbiamo chiesto ai direttori Novella Bellucci e Franco continuano di prendere la parola e poi a ben quattro relatori, tutti impegnati presso il laboratorio Leopardi, a livello di tesi, di dottorato, di assegno di ricerca e di ricerca vera e propria, ricerca come ricercatore, di prendere la parola per parlare delle loro ricerche, sì anche come individui, ma soprattutto nel corpo, nella vita della dimensione collettiva del laboratorio. Cerchiamo in questo modo intanto di promuovere una realtà particolarmente felice ed efficace di ricerca in Italia e di una serie di buone pratiche, ma anche di proporre un formato un po' dinamico, un po' diverso per le lectures di ottocentismi e di altri enti. Vorrei dare subito la parola a Novella Bellucci o a Franco Valentino, quale dei due preferisci cominciare? Franco comincio io o cominci tu? Come vuoi. Io posso fare, io sono la più vecchia del laboratorio, sono diciamo la monetina di Paperon dei Paperoni, la prima insomma, quindi forse parlo io per dare un'idea, una così, una piccola storia e poi parli tu invece, soprattutto per, certo per la tua storia, ma anche per il presente. Martina prima ha detto che io e te siamo direttori del laboratorio, io vorrei correggere questa cosa affinché sono stata, io sono in pensione, quindi l'abbiamo inventato insieme, in allegria, in grande, diciamo così, veramente è stata un'idea festosa, però adesso il direttore del laboratorio è Franco Valentino, quindi così, ma lo dico non perché so che a lui non è che ci tiene, ma per una questione così di esattezza. Allora, questo laboratorio è nato da, per quanto mi riguarda, è nato molto, molto tempo fa, molto, molto tempo fa, da un'idea coltivata a lungo e da un desiderio, che era quello di dare una forma più, come dire, più stabile al lavoro insieme, a lavorare insieme, che io con i miei studenti, con i laureandi, con i dottorandi, con gli amanti, non necessariamente neanche accademici, insomma, con gli amanti di, in questo caso di leopardi, abbiamo sempre praticato. Alessandra è la studentessa, diciamo, la mia, una delle prime di quelle che, e quindi può testimoniarlo questo, ma prima di lei ce ne sono state ancora tante. Io ho avuto una prima prova dell'entusiasmo, che si può provare, entusiasmo intellettuale ed emotivo, a lavorare insieme in questo modo, quando con un gruppo folto di studenti, laureandi, dottorandi e chi più ne ha più ne metta è professori, abbiamo organizzato le celebrazioni per il secondo centenario leopardiano. Siamo molto tempo fa, naturalmente, siamo nel 1998, ma chi vorrà andare a vedere i testi, i libri che sono stati pubblicati come risultato di quelle celebrazioni, troverà tanti nomi, tanti gruppi e allora eravamo, e io pensavo che era così, quell'officina, quell'arsenale che si era creato, avrebbe potuto così, insomma, avere una struttura più organica. Ma ho detto che il laboratorio è nato da un'idea che io portavo avanti da tanto tempo, ma poi perché venisse, avesse una, diventasse qualcosa di concreto, è stato necessario un passaggio fondamentale. E allora adesso dico che il laboratorio è frutto di un'amicizia, non solo di un'idea, ma di un'amicizia speciale che io non ho ritegno, diciamo, anzi ho felicità di comunicare a tutti voi, perché questa amicizia è una di quelle rare che mettono insieme affetti, passioni intellettuali e sintonie emotive. A un certo punto Franco è ritornato in Italia, noi ci conoscevamo così quasi solo di nome, insomma, quando lui è ritornato a Roma, poi parlerà, credo, del suo lavoro di laboratorio all'estero, e abbiamo cominciato a conoscerci sempre di più. I nostri studi erano situati alle due estremità di un corridoio, un corridoio lungo, le estremità, insomma, per raggiungerci e poi per cominciare a fare su e giù per questo corridoio, lo facevamo ogni giorno con maggiore entusiasmo, e beh, ci voleva, insomma, aveva un po' di tempo e durante questo tempo, come dire, è venuta fuori l'idea di questo laboratorio. Vi dico un'idea festosa, che metteva in comune due metodologie di, molto simili, anche se dal punto di vista poi del nostro lavorare sull'autore, noi avevamo storie diverse, maestri diversi, io maestro, perché Franco non ha avuto, lui è maestro di se stesso sostanzialmente, è ottimo maestro di se stesso, ma lavoravamo anche in maniere diverse, ma quello che ci accomunava era però la convinzione che si potesse lavorare meglio se si lavorava insieme con quello spirito che avevamo avuto la fortuna di condividere. Così abbiamo cominciato a mettere insieme, a comunicarci esperienze didattiche quotidiane, la tesi, il seminario, il piccolo seminario, la piccola ricerca, eccetera. Poi abbiamo cominciato ad andare un pochino più sullo strutturato ed è venuta fuori la base, diciamo, del nostro laboratorio, la base di ricerca che ancora oggi possiamo considerare una delle basi fondamentali del laboratorio che è stata la ricerca sul lessico leopardiano. Ora non la voglio fare lunga perché è già finito, è già il tempo, credo che l'ho già consumato e quindi non vi dico come è nata questa idea, vi dico soltanto che poi l'abbiamo portata avanti, abbiamo chiesto l'aiuto dei nostri più validi giovani, i nostri studenti già laureati, eccetera. Qui c'è Martina, c'è Valerio che non vedo ma so che c'è, Valerio Camarotto che sono due pilastri fondamentali come, questo non lo dico io, basta che voi sfogliate i volumi del lessico e ve ne renderete conto. Ora l'ultima cosa che voglio dire è riprendere una frase di Martina, un lemma che ha usato Martina che mi ha fatto veramente piacere, cioè quando Martina ha detto che il laboratorio è un luogo di educazione, di crescita, di educazione, ma che cosa si può desiderare di più, credo, da parte di due professori di cui io veramente, insomma, con tanti anni sulle spalle, che sentire un'allieva che ormai è diventata maestra anche lei, che dice che si è trovata dentro un luogo di educazione in un momento come questo, in cui noi sentiamo che il problema fondamentale, insomma, nel quale siamo, la criticità più forte è proprio quella educativa e ne soffriamo noi che stiamo dentro i meccanismi dell'educazione come di ferite aperte, sentire che viene riconosciuto a questa nostra invenzione, a questa nostra creatura, un ruolo fondamentale come, diciamo, di educazione. E io credo che mi fa piacere che Martina l'ha detto, ma io lo sento proprio così. E vi assicuro che quando Franco mi fa il grande dono di inserirmi ancora oggi come se io fossi un elemento attivissimo di questo lavoratorio dentro le riunioni e io vedo come vengono gestiti i rapporti tra i ragazzi, come i ragazzi giovani, gli studenti, i laureandi, adesso i dottorandi, collaborano al pensiero comune. Vi assicuro che posso dirvi che veramente è un luogo di educazione dove, credo, come dire, incrociamo le dita, ancora non è entrata quella brutta malattia della competizione accademica dalla quale pochissimi di quelli che salgono i gradini delle facoltà accademiche sono esenti e che invece c'è tanta solidarietà. Tra coloro che fanno parte del laboratorio c'è una solidarietà intellettuale. Ecco, ora io ho fatto una specie di elogio, un'apoteosi del laboratorio, ma sono stata chiamata a parlare di questo e ho detto quello che io sento veramente. Vi ringrazio di avermi ascoltato e do la parola a Franco. Grazie Novella. Dopo le parole di Martina e di Novella, io non avrei nient'altro da aggiungere. Insomma, mi sembra che abbiano descritto bene qual è lo spirito, se si può usare questa parola, del laboratorio. Posso solo così aggiungere qualcosa sull'altro capo dell'innesto, cioè l'Inghilterra, che è importante da due punti di vista. Visto che siamo in un contesto anche, diciamo, anglo-americano, quindi forse è giusto dire che alcuni dei semi di questo laboratorio vengono proprio da lì, in due sensi. Nel primo senso, perché in Inghilterra è nato, ho fondato nel 1998, lo stesso anno a cui faceva riferimento Novella, il bicentenario, quello che si chiamava a Birmingham, University of Birmingham, si chiamava, Paola è qui, Paola Cori, sì la vedo, e c'era anche lei, quello che si chiamava Center for the Study of Leopardi and the Age of Romanticism. Quindi era non solo Leopardi, ma l'età del romanticismo, quindi il primo ottocento, che poi è diventato per brevità, per sinteticità, Leopardi Center. Ecco, quindi questo centro era nato un po' per lo scopo, credo, per cui è nato anche questo network di ottocentismi, perché l'ottocento italiano è un po' trascurato nelle università del mondo, non si studia, un secolo un po' disgraziato. E quindi, e disgraziato era anche il povero Leopardi, del quale io parlavo con studiosi, anche esimi, molto colti di letteratura francese e inglese, e non avevano mai sentito il nome addirittura. Quindi questa cosa un po' mi indignava, mi preoccupava, e quindi c'era il desiderio di diffondere l'opera, il pensiero di Leopardi nel mondo, perché mi sembrava anche molto attuale, come gli ultimi recenti avvenimenti stanno testimoniando. Ecco, quindi poi il lavoro di questo center è stato seminariale, abbiamo organizzato molti convegni, seminari, conferenze, a cui sono venuti anche molti dei presenti, ma poi si è indirizzato soprattutto verso l'edizione integrale dello Zibaldone, che a quell'epoca mancava in inglese, e ci sembrava tutti uno strumento fondamentale per la diffusione del pensiero di Leopardi. Quindi questo è stato un po' il primo motore della creazione di questo centro, il quale è stato un po' per me, per quanto mi riguarda, il modello a cui rifarsi, anche se il laboratorio attuale è un pochino diverso, perché le situazioni sono diverse. Perché? Perché l'esperienza inglese accademica porta, o almeno portava a quell'epoca, a considerare il lavoro accademico in modo diverso da come normalmente si considera in Italia. Ora Martina sorride, ma forse perché sa che le cose stanno cambiando anche in questi ambienti, ma nel 98, io ci sono approdato nel 95 e avevo delle classi di, su Leopardi, corsi su Leopardi, di sei studenti, di sette studenti. Quindi era veramente un lavoro seminariale, gli studenti si conoscevano tutti, ci si usciva, si andava a fare lezioni sul prato, si parlava ore e ore, si intrecciavano discussioni, esperienze, eccetera. Quindi era un modello notissimo nel mondo a causa, diciamo, un po' del mito di Oxbridge, ma presente in tante altre università, che a me piaceva molto, io non ci sentivo molto a casa, prima che si crescesse, si sviluppasse il mostro della burocratizzazione che ormai tutti dobbiamo affrontare con la spada in mano. Ecco, allora era un po' questa l'idea di innestare, quando poi sono rientrato alla sapienza, nel modello universitario italiano, un po' questa modalità laboratoriale, collaborativa, che facesse incontrare le persone di vari ordini e gradi, cioè sia studenti e docenti in ambiti diversi da quello che sono poi le lezioni e gli esami, sono gli unici due momenti in cui ci si vede, sia gli studenti tra di loro, questo è un aspetto che è stato già citato, ma è molto importante, cioè gli studenti più grandi di dottorato, il laboratorio comprende studenti di ogni ordine e grado, dai post dottorandi addirittura come post addottorati, insomma, come Martina, come Valeria, eccetera, fino ai trennalisti, quindi sono tanti livelli, tanti ordini. E questo è molto importante perché i più grandi si prendono cura dei più piccoli, in un certo senso, e poi tutti collaborano con tutti. Ora i ragazzi forse faranno qualche esempio di queste collaborazioni che si sono spinte ben oltre. Abbiamo anche presentato, forse verrà detto, un intervento collettivo al convegno re canatese, che è forse un modello quasi unico. E tutto questo è molto bello, diciamo. Abbiamo tirato a sorte chi lo doveva leggere, ti ricordi? Esatto, esatto. Per evitare che ci fossero dei... Abbiamo tirato a sorte. Quindi, insomma, le attività sono tante, ne parleranno i ragazzi, non voglio anticipare, però voglio fare ancora solo due cose. Uno, mostrare, molti di voi avranno partecipato, due foto storiche. La prima è questa, spero di riuscirci. È la Maratona Zibaldone. Quella, infatti, non lo devo... Quello bisogna ricordarsi. Che è stato l'evento inaugurale, era il 26 novembre 2013. Ah, 13? Sì. È stato un bellissimo, insomma, evento, memorabile, direi. E poi il secondo, pochi anni dopo, c'è stata questa lettura con Martone, vi ricordate? Questa è l'aula magna del Rettorato della Sapienza. C'erano, non so, più di mille persone, insomma. Questo è stato il nostro evento più così importante da un certo punto di vista. Presente a presentare il film di Martone, no? Sì, quindi Martone, sì, sì. Bene, io penso di non dire altro, perché ci sono i ragazzi che diranno cose più interessanti. Volevo solo nominare due istituzioni che ci sono state accanto in questi anni. La prima è il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, con i quali siamo sempre in contatto. C'è il patrocinio e facciamo molte collaborazioni insieme. E la seconda, vorrei nominare la Fondazione Christian Cappelluti, che ci ha sempre seguito e sostenuto in tutti questi anni. E li ringrazio per questo. Bene, io cederei la parola a chi? Non lo so. Come vi siete organizzati, ragazzi? Ecco, mi pare che abbiamo prescelto un ordine inverso di età. Quindi cominciamo dalla più giovane, se non ho capito male, giusto? Miriam Kei dell'Università di Pisa. Buonasera a tutti. Grazie innanzitutto a Martino Viverno e Ottocentismi per averci ospitato e ovviamente per darci l'opportunità di parlare del Laboratorio Leopardi e per poterlo presentare nelle sue molte sfaccettature e anche ovviamente nella ricchezza delle sue attività che sono in parte già state anticipate dalla professoressa Bellucci e dal professor Dintino. Come anticipato Martina, io sono una dottoranda del primo anno all'Università di Pisa ma in realtà ho cominciato a partecipare alle attività del laboratorio verso la fine del 2016 da allora laureanda triennale sotto la guida appunto del professor Dintino e alla ricerca di materiale sull'elusivo rapporto di Leopardi con la lingua ebraica argomento di cui mi sarei poi occupata anche per la tesi magistrale. Sin da allora le primissime riunioni del laboratorio a cui ho partecipato hanno improntato la mia ricerca nel mio piccolo ad una maggiore consapevolezza innanzitutto della natura proteiforma e sfaccettata del pensiero leopardiano del peso poi anche di ciascuna parola all'interno del suo sistema di pensiero e di poesia e dell'importanza di guardare al di fuori e al di là dei più ovvi collegamenti e rimandi letterari e non forse tanto più significativi dove rimangono taciuti. Questi e tanti altri insegnamenti raccolti non solamente naturalmente dal professor Dintino e dalla professoressa Bellucci ma anche dagli altri membri del laboratorio. Durante le tavole rotonde degli incontri si creava quello che possiamo dire un vero e proprio Melting Pot in cui un singolo studente, dottorando, ricercatore e così via presentava di volta in volta la propria ricerca o i propri risultati in itinere e in quella occasione si accendevano dibattiti e confronti con il contributo di tutti i presenti. Un esempio di questo approccio collegiale alla ricerca ed è stato in parte anticipato è stata la partecipazione al convegno internazionale di studi leopardiani che si è tenuto a recanati nel settembre del 2017. La partecipazione a questo convegno è stata preceduta da diversi mesi di lavoro all'interno del laboratorio per stabilire l'argomento, l'approccio, per la ricerca e per la scrittura dell'intervento stesso. Questo lavoro, che è stato per così dire a dodici mani, se non di più, aveva come oggetto il pensiero della complessità, partendo dalleopardi come punto fermo o meglio come punto potremmo dire mobile e dunque complesso. Avendo individuato con il metodo del lessico, di cui però non vi parlerò io, un sistema di parole chiave all'interno dello zibaldone che fossero significative a tal proposito, abbiamo poi spostato l'attenzione su autori successivi, italiani e non, in cui queste parole risuonassero con echi altrettanto significativi. Al di là dell'opportunità francamente terrorizzante di poter parlare da neolaureata triennale di appena tre giorni davanti alla platea del convegno internazionale di studi leopardiani, rimane ancora oggi la consapevolezza, sì delle sfide che pone il lavoro collettivo, ma anche delle sue grandi risorse e ricompense, soprattutto nello scambio vivace e vitale di idee che ne alimenta sempre delle altre, in un circolo virtuoso e potremmo dire fruttuoso. Il laboratorio Leopardi ci ha permesso di partecipare attivamente anche a diverse altre iniziative di questo genere, partecipazione che è tanto più significativa se si considera che, nel mio caso, si è svolta durante il quinquennio universitario e non già durante il dottorato. Primo fra tutti vi faccio un altro esempio, l'organizzazione di un convegno internazionale che si è tenuto a novembre 2019 presso l'Università La Sapienza. L'organizzazione di questo convegno è stata sì un'occasione per conoscere ancora più da vicino le labirintiche burocrazie della sapienza, ma anche per declinare l'approccio della complessità, della diversità e della collettività in direzione di altre nazionalità e di altre discipline. Il convegno, tenutosi infatti in occasione del bicentenario della composizione dell'infinito, era improntato ad uno studio delle traduzioni e delle ricezioni del componimento leopardiano nei diversi spazi e nei diversi tempi del mondo, offrendo l'opportunità di ascoltare le relazioni di studiosi provenienti dal Giappone, dalla Polonia e non solo. Sulla stessa scia si collocano i diversi seminari multidisciplinari che il Laboratorio Leopardi ha organizzato e ospitato, argomento di cui vi parlerà la mia collega Aretina Bellizzi, a cui cedo volentieri la parola e vi ringrazio per l'ascolto. Procedo? Allora, salve a tutti. Intanto ringrazio moltissimo Martina Piperno e tutti gli altri organizzatori per averci dato la possibilità di partecipare a questo incontro, perché mi fa davvero piacere essere qui e parlare del Laboratorio Leopardi, che per me, prima di tutto, una bellissima esperienza di condivisione umana, oltre che di studio. Conoscevo e frequentavo il Laboratorio Leopardi fin dal suo nascere, essendomi laureata in Lettere alla Sapienza. Tuttavia, ho cominciato a frequentarlo in modo più assiduo, partecipando attivamente alle molte iniziative organizzate negli ultimi anni, da quando ho iniziato il mio percorso di dottorato, da quando, cioè, ho iniziato a occuparmi in modo più specifico di Leopardi. Il mio progetto di ricerca verte infatti sul rapporto tra Leopardi e Platone, con un focus particolare sulle operette morali. Il metodo del Laboratorio si è rivelato fin da subito vitale per la mia ricerca, che ha tratto grande giovamento da varie occasioni di discussione, non solo su quanto è più strettamente legato ai miei interessi. Una delle potenzialità e delle maggiori attrattive del Laboratorio, infatti, almeno ai miei occhi di studentessa prodata a Leopardi dopo essersi laureata in Filologia Classica, è la vocazione interdisciplinare che lo anima. Una vocazione che si esprime in primis nei seminari, momenti di confronto su un tema specifico, in cui sono invitati a discutere di ricerche in corso, non solo studiosi di Leopardi, ma anche studiosi di altri ambiti e discipline. Si tratta di occasioni uniche per gli studenti, che negli anni universitari sperimentano quasi esclusivamente la lezione frontale e che hanno invece così la possibilità di comprendere nel concreto cosa significhi fare ricerca e nello specifico cosa comporti fare ricerca su Leopardi. I seminari diventano pertanto, o almeno per me lo sono diventati, una vera e propria chiave attraverso cui accedere in modo diretto al testo, potendo contare sulla guida di validissimi studiosi e sui loro suggerimenti. Negli ultimi anni, solo per fare qualche esempio dell'ottica multiprospettica con la quale il laboratorio cerca di guardare i testi leopardiani, sono stati organizzati vari seminari indirizzati ad indagare il rapporto di Leopardi con il mondo scientifico. Tra questi vorrei ricordare almeno il ciclo di seminari tenuti dal matematico e filosofo Luciano Boi sui concetti filosofici e scientifici di vuoto in fisica, infinito in matematica e incompletezza in materia di conoscenza. Più di recente, invece, poco prima che la pandemia ci impedisse di proseguire i nostri incontri in presenza, si è tenuta la presentazione del libro L'infinita scienza di Leopardi di Giuseppe Mussardi e Gaspare Polizzi. Nella stessa direzione dell'interdisciplinarietà va un altro ciclo di seminari, avviato nel 2018, dal titolo Leopardi è, che si propone di indagare attraverso una struttura addittico il rapporto di Leopardi con un altro autore. Sia esso una fonte di Leopardi, e dunque il rapporto con un autore che Leopardi ha letto e meditato e della cui influenza rimane traccia nella sua opera, o al contrario di indagare il caso per cui Leopardi diviene fonte di riflessione o rielaborazione da parte di un autore successivo. Nel primo gruppo rientravano seminari quali quelli su Leopardi e Platone, Leopardi e l'ebraico, quello su Leopardi e Anacreonte e la poesia anacreontica del Settecento o il recentissimo Leopardi e Goethe. Nel secondo gruppo, invece, seminari come quelli su Leopardi e Goethe, tenuto dalla professoressa Paola Italia, i seminari su Leopardi e la sua ricezione nella letteratura portoghese, il seminario tenuto da Vincenzo Allegrini su Leopardi e Sabba o quello di Martina Piperno su Leopardi e la stampa di regime. Le attività seminariali del laboratorio non si sono fermate durante l'emergenza Covid, ma sono continuate, sperimentando anzi una nuova forma di interazione che permette di raggiungere un pubblico molto più vasto e vario del solito. Anche se tutti noi non vediamo l'ora di tornare a incontrarci di persona e di ricominciare a leggere le pagine dello Zibaldone e a commentarle seduti allo stesso tavolo, convinti che quella sia una modalità di analisi del testo e di condivisione dei saperi, il cui valore resta indiscusso, stiamo cercando di cogliere al meglio l'opportunità offerta dalla formula dei seminari online che consentono di mettere in relazione persone studiosi che abitano in luoghi diversi e a volte lontanissimi. Penso per esempio all'ultimissimo seminario tenuto da Flavia Di Battista su Leopardi e Goethe che ha simulato una bella e densa discussione tra studiosi di discipline diverse, italianisti, leopardisti, germanisti e storici della filosofia riuniti come intorno ad una virtuale ideale tavola rotonda al cui centro rimane Leopardi. Forse, aggiungo, sarà il caso di pensare in futuro ad una forma mista o integrata per continuare a consentire anche a chi è più lontano di seguire attivamente, partecipare attivamente a tutte le iniziative del laboratorio Leopardi. Vi ringrazio e cedo la parola agli altri. Grazie, Retina, che ricordo sta svolgendo il suo dottorato presso l'Università di Trento, se non sbaglio, giusto? E do adesso la parola a Vincenzo Allegrini dell'Università di Verona. Bene, mi sentite, vero? Sì. Perché ho qualche problema di connessione, tempismo perfetto. A cinque minuti dovrei resistere. Bene, grazie. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti, anzitutto a Martina per questa occasione e poi a tutti voi collegati. Sono felice di poter condividere, seppur brevemente, parte delle ricerche che ho condotto quest'anno presso il Laboratorio Leopardi e presso altre strutture. Infatti, proprio di questo voglio dirvi oggi, cioè della collaborazione del Laboratorio ad alcuni progetti che fanno capo a sedi diverse dalla Sapienza e dal Laboratorio. Dunque, anzitutto vi parlerò del progetto, che è tuttora in corso, che mi ha visto coinvolto nel 2020. Progetto che è intitolato L'eredità di Leopardi nella poesia italiana del Novecento ed è diretto da Massimo Natale verso l'Università di Verona. Ora, lo scopo della ricerca è piuttosto ambizioso. Si tratta, infatti, di una riconsiderazione di, diciamo così, estensiva della funzione dei canti nel ventesimo secolo. Ma in realtà si è scelto di guardare anche un po' indietro. Oggetto di studio, insomma, non sono solo poeti del Novecento, ma anche autori vissuti nel secolo di Leopardi, in buona parte o totalmente. A partire a Grandi Linee, da Emilio Praga, che nasce nel 39, appena due anni dopo, come ricorderete, la morte di Giacomo. È chiaro che un progetto così ampio non può che essere frutto di un lavoro collettivo che appunto prevede la collaborazione di più figure provenienti da università diverse. Il laboratorio, da questo punto di vista, è una delle sedi più attive. Ad esempio, come ha ricordato Martina, è stato organizzato già un seminario su Sapa, che ho ottenuto io, ma altri ne eseguiranno a marzo. Se posso fare una piccola anticipazione, se non faccio gaff, interverrà Valerio Camarotto, sempre ovviamente in collaborazione con Verona, ma sono coinvolti anche altri membri del laboratorio, tra cui uno studente o una studentessa di magistrale. Inoltre, per settembre è previsto un convegno ad Oxford, di argomento più vasto, ma comunque in buona parte a fine, organizzato dal Centro Leopardi Studies at Oxford, con la collaborazione del laboratorio appunto, e del Dipartimento di Cultura e Civiltà di Verona, e con il patrocino del CNSL, il Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Ora, torno un attimo sul progetto L'Eredità di Leopardi, per dirvi, ecco, molto velocemente, poi magari se a qualcuno interessa ci tornerò, che è finalizzato alla creazione di schede, prima per autori e poi per singoli canti, che confluiranno tutte in un database online, sì, consultabile liberamente in rete. Il modello delle schede, che è unico per tutti gli autori, ma versatile a seconda dei casi, è stato stabilito nei primi incontri veronesi, quando appunto era ancora possibile discutere di persona, insieme a Massimo Natale, Franco Dentino e Giuseppe Sandrini. Non entro troppo nel dettaglio delle schede, ma mi limito a dire che ognuna di esse prevede un cappello introduttivo, in cui si traccia, diciamo così, un primo bilancio critico, e al quale segue poi l'elenco di tutti i luoghi dell'opera del singolo autore, in cui ovviamente trova spazio in una citazione dai canti, che può essere di varia natura. Questa parte però assume la forma di un breve commento ai versi, e chiaramente solo in un'ottica leopardiana, di intertestualità, e con i dovuti rinvii bibliografici. Ebbene, per un lavoro di questo tipo, ossia incentrato fondamentalmente sulla lingua poetica, sulla semantica leopardiana e non, assai utile è stata per me, se posso dire così, la scuola del lessico, che è anzitutto, come penso che Valerio vi dirà, breve, un esercizio di ascolto e di rigore. Ma ecco, cerco di essere il più possibile sintetico, però prima di concludere, accenerei brevemente a un'altra importante iniziativa, alla quale ha partecipato anche il Laboratorio Leopardi, e mi riferisco a WikiLeopardi, un progetto diretto da Paola Italia e Giovanna Cordibella, Università di Berna, che molti di voi, immagino, conoscerete già, e che ci fornisce un'edizione critica digitale, che è in rete, di tutte le raccolte poetiche leopardiane e con appendici, dunque non solo il libro dei canti. E' particolarmente utile, perché presenta anche una riproduzione fotografica delle stampe. Ora, mi piace accennare a questo progetto, perché come parte avete colto, che immagino si sarà colto, gli altri interventi, anche questo progetto ha, insomma, previsto la partecipazione, direi più che attiva, degli studenti di allora e alcuni ancora di oggi. Del resto, proprio questo coinvolgimento su più piani, e questo scambio tra studenti, ricercatori, dottorandi e docenti, è un aspetto, direi, raro e prezioso, come in parte anche questo è stato detto, che da sempre ha contraddistinto il laboratorio. D'altronde, se posso fare un po' di autobiografia, così è stato anche per me, quando ormai, ormai qualche anno fa, devo dire, ho potuto partecipare, ancora da studente, appunto, alle prime riunioni a Villa Mirafiori, nei quali si iniziava a mettere, appunto, a pensare, che ha un metodo per il lessico, e questo ancora prima, anzi, poco prima, diciamo, che il laboratorio esistesse ufficialmente. Bene, mi fermo, così ho dato una panoramica dei progetti di scambio, diciamo così, e poi magari, se qualcuno è interessato, dirò altro. Grazie. Grazie Vincenzo, saliamo ancora di grado a, dà la parola a Valerio Camarotto, della Sapienza. Grazie, buonasera a tutti, direi innanzitutto saliamo di età, anche perché, appunto, c'è anche questo motivo, diciamo così, anagrafico, che mi rende forse, il più adatto, anche a presentare, no, a farvi un breve resoconto, della nascita, nascita del percorso del progetto dell'essico leopardiano, che io seguo sin dai suoi inizi, sostanzialmente. È il progetto, diciamo, un progetto pilastro centrale dell'attività del laboratorio, che, diciamo, mi piace ricordare, farà piacere sicuramente anche a Martina, suppongo, trova il suo nucleo generativo, proprio nella tesi, di laurea magistrale di Martina Piperno, presso Sapienza, come è stato detto, a partire da un lemma fondamentale, insomma, per Leopardi, che è mutazione. E a partire da questa primissima, pionieristica, direi, esplorazione, è stata inaugurata una progressiva messa a fuoco, diciamo, metodologica, che è stata, come ha fatto capire anche Vincenzo Allegrini, frutti di un grande lavoro di condivisione, di scavo, di confronto, che ha coinvolto non solo studiosi di, ovviamente, italianisti, innanzitutto, ma anche di altre aree disciplinari, filosofi, storici della scienza, eccetera, ma che, ecco, mi preme sottolineare, in realtà, molto ha ricavato anche dal contributo di dottorandi, addirittura, ancora di più, forse, dei laureandi, ricordo dei bellissimi pomeriggi, anche dei seminari, appunto, dedicati proprio ai condotti, in prima persona, dagli stessi studenti, che erano impegnati nella gravosa impresa, diciamo, di tesi, lessicali, che hanno dato, veramente, un contributo importante per il consolidamento, anche del, insomma, del metodo lessicale, e le ricordo con piacere, anche per i momenti conviviali, che hanno sempre accompagnato, diciamo, a cui teniamo sempre, in modo particolare. Ora, a partire da queste prime mosse, questi primi passi, insomma, nel corso dei, ormai dieci anni, diciamo, che ci, che sono passati, il progetto del lessico, ha toccato, diciamo, varie tappe importanti, io ho preparato, provo a condividere con voi lo schermo, non sono abilitato al momento, ma, insomma, volevo semplicemente riepilogare con voi, e mostrarvi semplicemente le copertine, diciamo, dei volumi che, in questi dieci anni, sono stati, appunto, pubblicati, a partire da un primo frutto, frutto, diciamo, di un lavoro lessicale ancora sperimentale, che si intitolava, appunto, per un lessico leopardiano, un po' timidamente quasi, ma forse anche un po', diciamo, per auspicare, diciamo, successivi appuntamenti, e poi, tre volumi, questi con cadenza più regolare, a partire dal 2014, di lessico leopardiano, propriamente detto, diciamo. Ecco, mi dicono che ora posso condividere lo schermo, benissimo. e dunque, vediamo se riesco. Ecco qui. Spero si veda adesso. Ecco, questi appunto sono i primi volumi, a cui faccio riferimento, tanto per un lessico leopardiano, poi abbiamo il lessico leopardiano 2014, fino ad arrivare a quello più recente, è uscito proprio freschissimo di stampa, diciamo, pochi mesi fa, è il lessico leopardiano 2020. Questi volumi sono tutti, come anche i due successivi, a cui farò un rapido riferimento, sono tutti disponibili in formato open access, e quindi potete, insomma, per chi ancora non li conosce, consultarli liberamente. accanto a questi volumi, sulle cui schede dirò qualcosa, molto brevemente fra pochissimo, vorrei anche ricordare, sempre come, diciamo, esiti di lavori che si sono collocati sulla scia del metodo del lessico leopardiano, altri due volumi, uno intitolato Lessico Europeo, sezione tedesca, perché si è concentrato su autori, soprattutto, del romanticismo tedesco, e poi, invece, un volume, diciamo, che si è, che è stato dedicato, soprattutto, al lessico morale, il lessico delle virtù, tra l'altro, ho visto collegata anche una delle curatrici, Silvia Ricca, che, appunto, è frutto di una giornata di studi che il laboratorio ha organizzato a Parigi in collaborazione con l'Università di Sorbonne-Catre, se non erro. Ora, qual è, molto rapidamente, l'obiettivo del progetto? Il progetto si propone di compiere un'esplorazione, una ricognizione il più possibile capillare ed esaustiva di carattere, appunto, semantico e lessicale del corpus leopardiano, partendo dal presupposto che, proprio, le opere, i testi di Leopardi costituiscano, da questo punto di vista, per le loro peculiarità inconfundibili, un campo di ricerca pressoché unico, nonché ricchissimo e fecondissimo da tantissimi punti di vista, insomma. Basti pensare all'ampiezza, ovviamente, alla grande varietà di implicazioni che, dall'antropologia, all'estetica, alla metafisica, alla morale, alla scienza, che è stata già chiamata in causa. e a partire da questa ricognizione, così, appunto, rigorosa, paziente, meticolosa anche, cercare, se possibile, anche di aprire nuove strade, diciamo, interpretative, oppure, insieme, magari, anche, sottoporre a verifica, eventualmente, a revisione, alcune categorie critiche, un po' inveterate, un po', diciamo, magari anche invecchiate, che invece, alla prova dei fatti, insomma, si dimostrano, forse, meno calzanti di quanto ci si aspetterebbe. Non posso, ovviamente, prolungarvi ancora molto, mi limito solamente a mostrarvi, a dirvi come, dopo, appunto, lunghe meditazioni e lavori di condivisione, si è deciso di impostare una tesi, diciamo, scusate, una voce di lessico tipo, insomma, si è stabilito di presentarla con tre zone ben distinte. Una prima sezione offre un resoconto numerico e quantitativo, diciamo, di tutto lo spoglio, quindi, delle occorrenze che il lemma oggetto di esame, insomma, le occorrenze con le quali il lemma oggetto di esame si presenta all'interno del corpus leopardiano e qui vi faccio, vi ho riportato, così, alcuni esempi solo per farvi notare, appunto, come è organizzato anche graficamente, alcune sono lemmi, diciamo, meno cospicui, altri invece, particolarmente, come vedete qui, per esempio, sono con molte attestazioni e molti con radicali. segue poi una seconda sezione che anche cromaticamente è ben distinguibile che vuole essere, vuole illustrare, diciamo, sinteticamente il quadro del campo di forza, diciamo, dei rapporti semantici, ecco, che intercorrono fra il lemma e tutta la costellazione lesticale che ruota attorno all'emma in questione, e infine c'è, diciamo, una terza sezione che è, se vogliamo, anche il cuore, diciamo, della voce che è una sezione di carattere invece più discorsivo, argomentativa e nella quale si affrontano i nodi fondamentali e le questioni problematiche più rilevanti che appunto emergono da questa esplorazione a tappeto, diciamo, a partire dai contesti testuali in cui le parole fanno la loro comparsa. rinvio per altre questioni oltre a un'eventuale discussione se volete o confronto ma insomma per approfondimenti metodologici al saggio di Martina, di Martina Viperno che trovate in appendice al Lessico 2014 che appunto è di riferimento insomma per chiunque voglia intraprendere questa avventura insomma. Bene, interrompo la condivisione e vi ringrazio. Grazie mille Valerio per la presentazione rispetto dei tempi anche per averci fatto quasi la storia di questo progetto che è un po' stato forse uno dei momenti esordiali di consolidamento della squadra che adesso che adesso insomma continua ad andare avanti a produrre nuova ricerca nuova conoscenza su Leopardi. Ho visto moltissimi nomi fra i presenti di persone che sono passate per quella scuola per la redazione di quelle voci qualche volta piccole imprese insomma mi ricordo la voce esperienza per esempio che contava forse 3.000 occorrenze una cosa del genere e vorrei pregarvi di prendere la parola se se avete domande sia per il gruppo che per i singoli relatori usando eventualmente anche la chat se se volete io volevo fare una piccola aggiunta ma rapidissima perché hai citato l'Emma Esperienza che è stato redatto da Carlo Caru che è ancora in contatto con noi ma adesso insegna in una scuola credo di Varese se non sbaglio ma lo cito per un per un motivo particolare perché Carlo ha sviluppato una metodologia di lessico leopardiano adatta alle scuole superiori questo forse è un aspetto che ancora non abbiamo citato ma oltre a mettere in contatto professori docenti di ogni ordine grado dottorandi studenti magistrali e triennali il laboratorio Leopardi è andato molto spesso nelle scuole negli istituti scolastici superiori e anche inferiori sono medi ecco siamo forse fermati ai medi per numerose iniziative così alcune delle quali incentrate sullo zibaldone e sul lessico leopardiano quindi Carlo Caru che ha steso appunto la mitica voce esperienza ha sviluppato una sorta di metodologia come un vademecum da impiegare per chi lo volesse nelle scuole che è a disposizione come tutto quello che facciamo sul sito del laboratorio che vi preghiamo di visitare perché è molto ricco ci sono tanti strumenti voglio ricordare anche che c'è la bibliografia leopardiana aggiornata al 2017 credo dal 2000 al 2017 che non si trova nei volumi non esiste a stampa quindi c'è solo lì la bibliografia leopardiana dal 2000 al 17 poi c'è il link al progetto di wiki leopardi che è stato citato prima da vincenzo e poi ci sono i volumi del lessico e poi c'è anche il lessico per le scuole quindi per i docenti e gli insegnanti che volessero applicarlo con i loro studenti ecco solo questo volevo aggiungere grazie Franco ho messo alcuni dei link che hai menzionato nella chat per chi li volesse recuperare e credo che Gabriella avesse una domanda o un intervento sì molto breve volevo solo ringraziarvi tutti Martina e tutti quelli che hanno accettato il nostro invito questo è veramente anche un'occasione stupenda per noi per capire meglio quello che state facendo ma anche si percepisce quella che Novella prima diceva questa solidarietà intellettuale una sinergia intellettuale soprattutto meravigliosa che va al di là di di liopardi che per noi anche come dire una fonte di enorme ispirazione quindi vi ringraziamo moltissimo anche in queste giornate terribili almeno a me dà un'energia meravigliosa quindi grazie poi volevo volevo chiedervi se avete mai pensato di organizzare occasioni di incontro ma aperti un po' non solo gli specialisti ma il pubblico in generale ho visto nel casino di Martone eccetera però mi chiedevo se in futuro non si potessero organizzare degli incontri anche una giornata di riflessione sull'opera di Leopardi magari un'opera in particolare dei canti in particolare dico questo perché mi viene in mente una cosa che faceva un professore a Princeton Robert Holland era un dantista che organizzava in Italia delle letture dantis a cui partecipano suoi vecchi allievi e altre persone qui dagli Stati Uniti gruppo ottocentissimi io verrei ad esempio d'estate se organizzate le cose a Roma ecco mi chiedo se il laboratorio Leopardi potesse in futuro anche farsi iniziatore di occasioni di questo tipo che vadano anche al di là degli specialisti di Leopardi ottocentissimi che però chiaramente leggono e ritornano a Leopardi con molto piacere anche se non sono degli specialisti in materia e grazie di nuovo veramente stupendo quello che ho sentito oggi grazie a te comunque Gabriella per questa indicazione perché ci è balenata nella mente più di una volta una cosa del genere del resto quando Franco ha ricordato il lavoro nelle scuole per esempio quello è sicuramente così è un andare verso non specialisti però quest'idea che tu ci hai offerto di così di immaginare delle letture leopardiane aperte insomma questo c'era anche balenata una cosa del genere diciamo che il lavoro è sempre stato molto intenso e quindi per organizzare però però lo teniamo in considerazione ti ringrazio di avercelo proposto sicuramente adesso ne parleremo e lo teniamo in considerazione poi ti facciamo sapere naturalmente grazie e intanto che attendo altre domande se qualcuno vuole prendere la parola ricordo che il laboratorio è stato sempre a fianco della manifestazione Frascatana la porza della poesia che è anche quello una sinergia sia con le scuole sia con la società civile la prima edizione è stata leopardiana nel 2010 nel 2011 credo anzi nel 2012 Dante seguita poi da moltissimi poeti non solo italiani abbiamo c'è stato Emily Dickinson Goethe Virgilio Omero e tanti altri ma per per parlare della forza della poesia ci sarebbe bisogno di un altro seminario perché c'è talmente tanto da dire anche un elemento collaborativo sociale a più livelli non so se qualcuno ha una domanda può scriverla nella chat o prendere la parola anche subito o qualche intervento in più qualche aggiunta io intanto volevo ricordare che il diciamo il lato inglese della ricerca leopardiana ha conosciuto una riattivazione recente con non riattivazione insomma un ampliamento recente con la fondazione nel credo 17 dei leopardistati ad Oxford diretto da Emanuela Tandello che insomma si pone come un altro polo della leopardistica anglosassone che lentamente come diceva Franco prima prende prende lentamente piede leopardistica in lingua inglese non necessariamente di matrice anglosassone Maria Chiara Tortora ha una domanda credo diciamo orientativamente diretta a Valerio ma chiunque può prendere la parola quanti volumi del lessico leopardiano avete in progetto di realizzare ma non è facile rispondere perché in realtà non c'è un numero preordinato insomma e quindi suppongo che molto dipenderà dalle nostre energie e beh comunque sicuramente posso dire questo intanto che abbiamo già in cantiere il prossimo volume cioè stiamo già iniziando quantomeno a ragionare per organizzare il nuovo numero insomma ma ecco non esiste un piano editoriale così preciso ecco si procede abbastanza artigianalmente diciamo nel senso se non è più nobile termine si però un po' casualmente però siamo riusciti finora a pubblicare un volume ogni due anni quindi con una parvenza di regolarità che non è voluta ma è tutto casuale la domanda chiede quanti volumi vorrete pubblicare lo sa perché forse una cosa da dire è che non c'è un piano lessicale programmato cioè non è che abbiamo deciso un numero di lemmi o una qualità di lemmi particolare i lemmi nascono a seconda delle esigenze delle tesi della passione dei ragazzi delle sinergie che si creano di incastri particolari quindi ci sono alcune aree privilegiate però insomma andiamo anche seguendo l'ispirazione di chi li fa poi perché è un lavoro molto duro questo Valerio non so se l'ha detto però bisogna sottolinearlo sono tesi molto molto difficili molto complesse e quindi ci vuole almeno l'entusiasmo di scegliere la propria parola la parola che si ama perché se no se no non è possibile sono complesse sia per chi le deve eseguire che per chi le deve come dire per chi le deve accompagnare insomma ti ricordi l'ultima che abbiamo seguito insieme che era Materia vero? Una delle ultime ci ha preso non solo alla studiosa che la studentessa che l'ha compilata ma a noi ti ricordi quanti insomma anche anche dubbi no? Anche proprio difficoltà insomma nostre certi certi lemmi sono particolarmente complicati E visto che si parla di elaborazione delle schede elessicali mi pare che non sia stato menzionato il fatto che in collaborazione con la scuola dei studi avanzati c'è stata una fase in cui alcuni ricercatori comprese io e Valerio siamo stati coinvolti in una specie di laboratorio di una media di mezzo fra un corso un laboratorio per imparare le metodologie dell'essico ma anche per affinarle perché alla fine erano come dire il nostro trassi più che più che elementi imposti dall'alto e nella formato proprio della tesina della SAS i ragazzi della SAS devono fare una specie di piccola tesi di laurea in più forse neanche tanto piccola veramente molte molte tesi SAS poi sono diventate schede dell'essico diopardiano e questa collaborazione è stata particolarmente virtuosa per qualche anno ed è anche un esempio di come il laboratorio riesca a fare ricerca didattica e ricerca e didattica insieme ed è una prassi credo particolarmente efficace perché porta ragazzi anche giovanissimi laureandi triennali a confrontarsi a mettersi proprio sulla breccia lì nel limite tra quello che si sa e quello che non si sa con una griglia abbastanza solida diciamo di riferimento quindi non allo sbaraglio però allo stesso tempo liberi di fare la loro esplorazione guidata e autonoma allo stesso tempo martina io volevo giusto fare una piccola domanda di nuovo a livello della dimensione di divulgazione avete parlato della maratona zibaldone all'inizio credo franco ne avesse parlato che mi ha colpito molto mi interessa molto si sente molto parlare di maratone dante no di maratone dell'inferno della divina commedia ma non avevo sentito parlare del di maratone quindi è stata la prima iniziativa ci sono iniziative una cosa regolare come è andata perché lo zibaldone rispetto a qualcos'altro suggerimenti su come organizzarne una in una iniziativa di come dire il battesimo del laboratorio abbiamo pensato di mettere insieme due cose il battesimo del laboratorio per renderlo ufficiale nella alla sapienza e fuori e poi come dire festeggiare l'edizione dello zibaldone inglese due cose che si sono unite insieme noi la ricordiamo con grandissimo piacere lei ci chiede delle indicazioni per organizzare una maratona ma noi abbiamo convocato intanto i colleghi di tutte le facoltà voglio ricordare penso che franco sia contento se lo ricordo l'intervento del fisico franco del fisico carlo bernardini oggi purtroppo carlo bernardini è morto forse tre anni fa due abbiamo fatto anche ti ricordi franco il necrologio sulla nostra pagina e carlo bernardini che appunto fisico eccetera lesse un pensiero leopardiano arrivò sulla cattedra un po' come dire con fatica perché già camminava in maniera piuttosto mal certa e lesse un pensiero leopardiano straordinariamente interessante ma soprattutto interessante fu il suo breve ma veramente straordinario commento no franco te lo ricordi e voi che c'eravate no vabbè cosa no no forse vale la pena dire se non hanno partecipato chi non ha partecipato che questa maratona è stata concepita non come interventi critici no ma è stata concepita come una giornata di letture semplicemente letture dello zibaldone chiunque interveniva aveva portava con sé il suo passo preferito quello che voleva leggere insomma qualcosa che lo aveva toccato quindi tutte le discipline tutte le facoltà eccetera chiunque ha scelto dallo zibaldone un passo e l'ha semplicemente letto qualcuno ha fatto un brevissimo commento ma era molto rapidi quindi abbiamo sostanzialmente ascoltato la voce di Leopardi ecco però farlo collettivamente in un'aula piena stracolma è stata una cosa veramente entusiasmante emozionante sì e si può fare cioè è una cosa che si può fare dice come farla non è difficile guarda se l'abbiamo fatta noi la può fare chiunque perché siamo molto disorganizzati in realtà non dire così non è vero abbiamo fatto non sono d'accordo no è che c'è una cherella interna al laboratorio perché tutti gli altri gruppi di ricerca che io vedo hanno queste locandine perfette i programmi che vanno da qui ai prossimi cinque anni noi non ce la facciamo ma noi le nostre locandine sono artistiche sono d'autore cosa vai dicendo meglio di cosa noi non abbiamo insomma anche le copertine dei nostri lessici sono d'autore sono fatte da un artista il quale ci dedica il suo tempo si chiama Miguel Giglio e che è un nostro amico insomma diciamo compagno proprio saranno pure disorganizzati però sono cose come dire non sembrate affatto disorganizzate assolutamente no Novella posso dire una cosa? certo buonasera io sono un'intrusa perché sono per la prima volta grazie alla mediazione di Novella Bellucci sono entrata ad ascoltarvi sono molto felice e molto emozionata l'idea che più in là quando il covid ci darà un po' più di spazio si possono coinvolgere le scuole Novella sai io pensare che quando stavo in classe stavo al fermi di Frascati però anche da da vecchia insegnante continuo a fare degli approfondimenti perché non so stare lontana e pensare che lo studio di Leopardi in un tecnico che ha poche occasioni diciamo di letture individuali di approfondimenti insomma meno fortunati dei liceali in questo caso che sia che sia limitata alle 4-5 ore di lezione 5-6 mi sembra veramente un peccato un peccato che ho sempre di voi ho sempre sofferto e mi ricordo che quando è stata fatta nella forza della poesia la giornata leopardiana che ricordi Novella mi fu chiesto fu chiesto alla mia scuola se uno di noi voleva proporre il tema perché i ragazzi non amano Leopardi oppure perché i ragazzi amano Leopardi chiaramente io mi proposi per la seconda per la seconda opzione perché mi risultava che i miei sebbene non umanisti sebbene indisciplinati e tutto con Leopardi entrano in un feeling profondo e sincero e quindi sto pensando che visto che c'è tutto questo materiale che non conoscevo e che potevo neanche lontanamente supporre fosse così ricco e affascinante quando sarà possibile farlo entrare un pochino nelle scuole mi propongo così mi auto mi auto in carico di portarlo anche soltanto come amore della lettura amore della conoscenza non necessariamente critica perché non è quello poi che in tecnico è prioritario ma proprio la creatura Leopardi che sempre considerato profondamente educativa da citare la giovane la giovane di prima profondamente morale nel senso più alto della parola quindi non legato all'ora di italiano ma legato al senso della vita ecco della comprensione della complessità quale la vita è quindi vi ringrazio ancora di avermi fatto entrare in questo pezzettino di mosaico grazie a te grazie a te abbiamo quasi normalmente le riunioni di ottocentismi durano un'ora e un quarto quindi siamo quasi arrivati al limite ma volevo fare una domanda a Lampo a Franco e Novella così proprio per chiudere il laboratorio è nato nel 2015 come sarà il laboratorio Leopardi 2025 vogliamo dire che sarà intanto diciamo che sarà diciamo la verità ogni tanto ci vediamo e siccome il carico di lavoro è enorme vi garantisco che per gestire questa cosa oltre alle normali routine universitari che sono diventate terribilmente faticose ci vuole molto molto tempo quindi ogni tanto c'è qualcuno che dà in escandescenze e dice basta questo laboratorio chiudiamolo ma per fortuna poi superiamo questa crisi e andiamo avanti quindi Martina la risposta è finché diciamo ci sarà una reazione una controreazione ci sarà 25 in fondo è solo fra quattro anni ma poi adesso saranno anche i nostri ragazzi io continuo a chiamare i nostri ragazzi ma i più giovani credo che ci tengano molto al laboratorio Leopardi per cui se ci potrà essere qualche defaianza o qualche momento insomma saranno anche loro a portarlo avanti come sarà questo è difficile dire speriamo che riesca a continuare ad essere quello che è stato finora perché ecco una cosa una cosa forse ci tengo molto a dirlo non vorrei che il laboratorio Leopardi perdesse quegli aspetti diciamo che lo caratterizzano da un punto di vista proprio dei comportamenti e delle delle scelte ma sì ma diciamolo questa parola non ci deve non ci deve spaventare delle scelte morali ecco perché per noi è anche quello il laboratorio appunto abbiamo parlato di educazione ecco questo io voglio sperare no voglio sperare so che sarà così anche nel 2015 se no non sarà ecco questo se no sarà un'altra cosa e speriamo che non sia che non diventi un'altra cosa noi faremo del tutto soprattutto faranno del tutto i nostri ragazzi perché l'energia sta soprattutto voi voglio dire io ancora parlo guardo Martina e dico i nostri ragazzi ormai Martina è diventata no un maestro un professore ma per me rimane un ragazzo per me io l'ho conosciuta che aveva 18 anni e abbiamo insieme fatto la grande scommessa della mutazione siamo andati avanti eccetera o Alessandra Mirra che adesso è andata via e che è più grande di Martina ma per me è sempre per noi sapete lo sapete chi insegna è così insomma sono i propri ragazzi e il laboratorio deve continuare ad avere questo aspetto poi magari questo significherà anche un pochino dice Franco qualche volta che si confronta con altre cose disorganizzative ma non è vero che siamo che è disorganizzato il laboratorio Leopardi non è vero io spero che continui ad andare avanti con le possibilità ecco la cosa che mi è sembrata interessante poi per le mie così velleità sociali che sono sempre fondamentali della mia insomma della mia formazione della mia storia e di come sono quel suggerimento di Gabriella di magari potenziare il laboratorio nella direzione di iniziative che siano non necessariamente insomma scientifiche altamente scientifiche ma anche divulgative in modo in senso alto e la divulgazione l'alta divulgazione almeno per quanto mi riguarda è un gesto importante e difficile ecco questo ci vedremo prima che del 25 Martino seguiremo così a dieci anni dalla fondazione come ve lo immaginavate una vecchia signora davvero insomma mi festeggerete nel 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 25 no nel 25 nel 26 mi festeggerete poi ti dirò perché bene se non ci sono altre domande o interventi dell'ultimo momento io comincerei a chiudere la riunione non so se Gabriella vuole prendere una parola l'ultima ma io molto velocemente ringrazio di nuovo tutti quelli che hanno parlato quelli che hanno ascoltato tutti quelli che hanno partecipato a questa a questo secondo incontro e volevo solo ricordarvi che il 26 marzo l'ultimo venerdì di marzo ci sarà un nostro terzo incontro di questo di questo periodo e e parlerà a Edoardo Barsotti che ha un volume che sta per uscire credo a breve dal titolo At the Roots of Italian Identity Race and Nation in the Italian Risorgimento quindi spero di vedervi numerosi anche al prossimo incontro ringrazio Martina per averci portato il laboratorio Leopardi ringrazio di nuovo a tutti e arrivederci a presto grazie a tutti e a presto ciao arrivederci grazie grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti